La giornata della visita del Ministro Giannini a Silvi non era cominciata bene, nel senso che questa mattina, aprendo gli uffici comunali, avete trovato una marra sorpresa, Sindaco. Sì, sì, sono appena alle sette e mezza, abbiamo avuto questa brutta notizia che qualcuno stanotte ci è venuto a fare visita sotto l'ufficio Anagrafe, entrando da uno scardinato, una finestra, e si sono portati dietro una cassaforte dove dentro c'erano un centinaio di carte d'identità, di voucher sociali che dovevamo mettere a disposizione nei prossimi giorni e l'incasso delle carte d'identità già fatte in precedenza per circa 3.500 euro. Insomma, un bottino discreto, possiamo dire. Per le casse comunali di Silvi direi che ci ha fatto più che danno. Senta, ma sono entrati dalla finestra dell'ufficio Anagrafe, ma non c'è allarme, non era allarmata la finestra? Purtroppo non è allarmata, non ci sono telecamere, questa è una grave deficienza che attualmente noi abbiamo, che dobbiamo immediatamente colmare. Ciò lo faremo in occasione del ripristino di alcuni locali che dobbiamo mettere, dobbiamo ripristinare al primo piano. I voucher potete bloccarli, però le carte d'identità possono essere poi rivendute magari utilizzate per uso improprio. Eh sì, purtroppo i voucher sono già stati bloccati dalla funzionaria e per quanto riguarda le carte d'identità è chiaro che lo so che se ne può fare, è quello che diceva lei. E siccome i comuni i soldi ne hanno da buttare, 3.500 euro non sono un bello scherzo. No, no, come dicevo prima, per le casse comunali di Silvi 3.500 euro sono tanti.